A metà di un lungo corridoio. Il mio posto di uscire ha un tavolo che sta a metà di un lungo corridoio. Alla mia destra c'è l'ufficio previsioni speciali, l'ufficio riscossione, l'ufficio sinistri e l'ufficio studi. Da questa parte il corridoio è lungo 57 passi. Alla mia sinistra c'è l'ufficio pubblicità, responsabilità civile, furti e personale. Da questa parte il corridoio è lungo 82 passi. Tolto lo smistamento di carte della prima mattinata, io rimanevo tutto il giorno a non fare nulla. Molti credono che sia bello non fare nulla, invece è una cosa terribile. Dalla mattina alla sera sempre la stessa cosa, nulla. Nell'atrio dove il mio tavolo risionavano solo le voci dell'orologio e delle stampanti. Un giorno decisi di mettermi a studiare tra i passi indifferenti degli impiegati. Da allora ho preso la licenza media, il diploma di ragioneria e ora sto al secondo anno di giurisprudenza. Chi passa mi vede con gli occhi bassi sulle pagine di un libro, ma il mio pensiero è in alto. Anche quando non studio, davanti a me ho sempre un libro aperto. È la piccola luce che ho preso in trappola e ho addomesticato con la volontà. Commento Molti pensano che una decisione importante per la nostra vita sia casuale, sia avvenuta in quel momento, ma poteva avvenire in un altro momento. I maestri immateriali ripetono invece che tutto ciò che ci accade è il risultato di una equazione evolutiva, che come tale esprime la struttura divina della realtà. Per rimanere nell'esempio, la decisione di mettersi a studiare non è giunta per l'usciere a caso, ma è l'esatto risultato delle regole vibratorie con cui i suoi codici hanno vissuto, fino allora, il suo lavoro di usciere.